Dell'ottimismo, Martina Midei, da un nome... Tempi di ripescaggio 23... La Asher Smith, 19 anni in terza. La campionessa mondiale Juniors, dei cento metri però. Dean Asher Smith, che ha 18 anni. E controlla al meglio. E' quinta del suo salto precedente. Sbagliato, dove aveva rischiato anche di farsi male. Il tentativo precedente è 5.60 sul canale del salto con l'asta. Mentre qui la gara di Martina Midei, che è arrivata quinta, è l'unica delle azzurre che abbiano passato il turno per ripescaggio. Ma lei il suo l'ha fatto. Non è andata lontana dal suo 23.49. Riesce a difendere il quinto posto qui. Papà Ioannu le arriva... Vediamo lei, Martina Midei. Sta piano piano andando avanti con il suo percorso di crescita. L'atleta è cresciuta nel costorino. E qui Dina Asher Smith, qui sotto. Una prova molto buona, di grande volontà. Certo, siamo lontani noi nello sprint femminile. Non c'è nulla da dire. Lei è stata molto brava, hanno passato tutte e tre il primo turno. Tantissimi complimenti. Però... Però siamo molto lontani.